Buongiorno, sono Maria Siclari, direttore generale dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, una delle più importanti istituzioni scientifiche che si occupa di tutte le tematiche legate all'ambiente, dalla qualità dell'aria, dell'acqua, agli agenti fisici, agli agenti climatici, terra, geologia e anche tutti i rischi naturali ed antropici. L'ISPRA detiene la più grande banca di dati ambientali che detiene grazie a interfacciandosi con la comunità europea, la comunità internazionale. Più di mille ricercatori ISPRA operano tutti i giorni sul territorio per accogliere questi dati. I dati vengono utilizzati per poter edigere linee guida, i resoconti, ma anche per elaborare gli indicatori ambientali. La grande massa di dati che viene raccolta viene utilizzata anche per realizzare delle cartografie tematiche. In questo momento ISPRA un ruolo da protagonista è nella transizione ecologica e nella transizione digitale. Nella transizione ecologica perché noi siamo presenti nella missione 2 del PNRR, la cosiddetta rivoluzione verde. L'obiettivo è quello di realizzare un sistema di monitoraggio da remoto di tutti i rischi del territorio e anche una piattaforma aperta e data ambientale da parte di tutta la collettività. Siamo presenti anche nella transizione digitale perché ormai la digitalizzazione rappresenta una necessità trasversale ad ogni atto legato alla pianificazione, alla gestione del territorio e dell'ambiente. Sono Piero Genovese e sono responsabile del servizio coordinamento fauna selvatica di ISPRA. La fauna nel nostro paese è ancora minacciata, oltre il 50% delle specie presenti in Italia, ci sono 60.000 specie circa di animali nel nostro paese che è particolarmente ricco di biodiversità, è in cattivo stato di conservazione, minacciata dalla distruzione degli habitat, da uno sfruttamento eccessivo, dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici e dall'introduzione di specie invasive da parte dell'uomo. Però ci sono anche buone notizie. Molte specie sono in recupero anche perché il nostro paese sta vedendo una maggior copertura forestale, una migliore regolamentazione della caccia, una rete di aree protette sempre più estesa e quindi vediamo con i nostri occhi tante specie come i cinghiali nelle nostre città, i cervi, i lupi, i cinghiali in tutto il paese, gli orsi che stanno in recupero. Questo provoca anche la necessità di affrontare alcune difficoltà, ad esempio i danni che i cinghiali provocano all'agricoltura, la predazione di lupi e orsi sugli allevamenti. Il ruolo di ISPRA è quello di valutare gli interventi operati da regioni e parchi sulle specie animali e anche di fornire supporto in modo da assicurare una conservazione corretta e sostenibile di tutte le specie animali. Sono Silvia Brini, responsabile dell'area per il monitoraggio della qualità dell'aria e per la climatologia operativa. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, negli ultimi 10-15 anni possiamo dire che la situazione è in miglioramento. Abbiamo chiaramente dei trend in diminuzione per quanto concerne le concentrazioni di PM10, PM2,5 e biossido di azoto, ma queste riduzioni non sono sufficienti per rispettare in tutto il territorio nazionale i valori previsti dalla normativa per la tutela della salute e questo è il motivo per cui per questi tre inquinanti sono in atto le procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea. L'altro inquinante critico è l'ozono per il quale non c'è una chiara tendenza alla diminuzione. Dall'altro lato, sulla fronte del cambiamento climatico, gli indicatori del cambiamento climatico ci dicono che la temperatura in Italia a livello nazionale è costantemente in aumento. Notiamo un trend in aumento nelle ultime decine di anni delle anomalie positive di temperatura con riferimento alla temperatura sulla superficie terrestre rispetto alla media climatologica del trentennio di riferimento. Ora ci sono molte cose che ognuno di noi può fare per mettere in atto dei comportamenti sostenibili e contribuire al contrasto al cambiamento climatico e alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. Da una parte cercare di limitare l'uso dell'auto privata scegliendo delle modalità di spostamento come gli spostamenti pedonali, come l'uso della bicicletta, come l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, oppure ridurre di un grado la temperatura all'interno delle nostre abitazioni durante l'inverno o aumentarla di un grado durante l'estate per far lavorare di meno i climatizzatori. Ancora possiamo evitare di tenere le finestre aperte quando abbiamo il riscaldamento acceso, l'aria condizionata accesa sempre nelle nostre case, evitare di tenere il motore dell'automobile acceso quando siamo fermi per mantenere la l'aria condizionata e mantenerci freschi. Sono Leonardo Tunesi, responsabile dell'area tutela della biodiversità marina e per quello che riguarda il mare, l'ambiente marino, la situazione attuale è veramente di grande stress. Ci sono pressioni molto elevate, date dalla sovrapesca, dall'inquinamento, dalle condizioni legate ai cambiamenti climatici che portano all'acidificazione dei nostri mari e all'arrivo anche di specie che non sono proprio i nostri mari, le specie alieni marine che miniano anch'esse lo stato della salute del nostro ambiente. Quindi questa situazione è ormai stata ben inquadrata a livello mondiale e anche a livello europeo e da questo punto di vista lo scorso anno proprio l'Europa si è dotata di una strategia per la biodiversità al 2030 che prevede nei prossimi dieci anni tutta una serie di attività che ci porteranno a definire tutta una serie di soluzioni che dovrebbero controvertire e modificare completamente lo stato delle nostre acque, dei nostri mari, in particolare con la creazione di aree protette per un 30% delle acque europee e il 10% di esse strettamente protette. Quindi c'è in atto un impegno molto forte anche a livello nazionale e anche attività del piano nazionale per la resilienza hanno portato a focalizzare attenzione su questo aspetto. Cosa possiamo fare noi per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente marino? Per prima cosa a livello dei supermercati è molto importante nel momento in cui andiamo a fare degli acquisti porre attenzione all'acquisto di prodotti ittici che siano oggetto di pesca sostenibile. Per quello che riguarda il nostro comportamento invece a casa, ognuno di noi deve fare attenzione, è molto importante che ponga attenzione a come si pone nei confronti dell'acqua, bisogna evitare di sprecare l'acqua e soprattutto di utilizzare in maniera eccessiva saponi e detersivi. Bisogna utilizzare in maniera adeguata ma dobbiamo considerare che tutto quello che vediamo che esce dai nostri scarichi prima o poi finirà in mare. E poi un ulteriore aspetto, come ci dobbiamo comportare, com'è importante che ci si comporti quando si va in spiaggia, quando si va al mare? Beh è molto importante non solo diciamo ovviamente evitare di lasciare rifiuti, sporcare l'ambiente, ma cercare per quanto possibile di entrare in sintonia con l'ambiente che ci sta ospitando, prendendo coscienza che in pratica siamo tutti parte di un'unica realtà che è l'ambiente, in particolare nel nostro caso l'ambiente marino. Sono Valeria Frittelloni e sono responsabile del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare. Il nostro paese si trova posizionato abbastanza bene per quanto riguarda l'economia circolare. Abbiamo un tasso di circolarità che si attesta intorno al 22%, meglio di noi in Europa fanno solo i Paesi Bassi, la Francia e il Belgio. Abbiamo un tasso di smaltimento in discarica che sta intorno al 20% e dobbiamo arrivare al 2035 a ridurlo al 10%. Quali sono le azioni che ognuno di noi può fare? Intanto ognuno deve fare la sua parte. Partendo dai cittadini abbiamo la possibilità di intervenire direttamente attraverso le nostre scelte, privilegiando nei nostri consumi i prodotti che hanno una lunga durata, quindi evitando il più possibile il monouso, andando verso politiche di riparazione dei prodotti prima di disfarcene e l'altra grandissima azione che possiamo fare è sulla raccolta differenziata che è assolutamente preparatoria alla fase successiva del riciclaggio. Fare attenzione ai rifiuti che produciamo nelle nostre case, separarli in maniera attenta. Gli altri attori della filiera che ci possono dare una mano per migliorare le performance del nostro paese sono sicuramente le imprese con la eco-progettazione, l'attenzione e la sostenibilità all'interno dei cicli produttivi, migliorando gli efficientamenti, spingendo verso le certificazioni ambientali. L'ultimo attore è la pubblica amministrazione e le istituzioni che ci devono dare le giuste strategie, ma anche un orientamento dei consumi della pubblica amministrazione verso scelte green, quindi il green public procurement e gli appalti verdi che possono spingere il mercato dei prodotti e dei materiali riciclati. Sono Lorenzo Ciccarese, responsabile dell'area per la conservazione delle specie degli habitat terrestri e per la gestione sostenibile dei sistemi agricoli e forestali. La comunità scientifica è stata molto chiara negli ultimi anni, dice che siamo di fronte alla sesta grande estinzione di massa, circa un milione di specie sono a rischio di estinzione, abbiamo quindi un problema a scala globale ma anche a scala nazionale, a scala europea. La situazione delle specie degli habitat in Italia non è delle più positive, però possiamo contare delle storie di successo, per esempio abbiamo raggiunto il target di avere il 19% di aree protette, la strategia UE per la biodiversità e l'accordo delle Nazioni Unite ci chiedono di avere almeno il 30% di aree protette, ma questo potrebbe essere non sufficiente. Abbiamo bisogno soprattutto di ridurre le pressioni che i settori produttivi esercitano sulla biodiversità, in modo particolare l'agricoltura e la selvicoltura. Anche qui abbiamo dei dati negativi, però abbiamo anche dei risultati positivi, in modo particolare l'agricoltura biologica. Abbiamo raggiunto il 15% di superficie agricole utilizzate secondo questo metodo sostenibile dal punto di vista della conservazione della biodiversità, dell'uso sostenibile anche delle risorse idriche. Così storia di successo può essere costituita, rappresentata anche dall'aumento continuo della superficie forestale, dovuta sia ai vincoli, alle norme, alle pratiche che sono state sviluppate negli ultimi decenni. Circa un terzo del territorio nazionale è coperto da foreste. Rimangono ancora molte cose da fare, per questo c'è bisogno di rispettare i target che ci vengono imposti dall'Unione Europea e dall'Accordo delle Nazioni Unite. Sono Carla Iadanza, mi occupo di frane di dissesso idrogeologico al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA. L'Italia è un paese ad elevato rischio idrogeologico, sono oltre 625.000 le frane sul territorio nazionale e circa i due terzi di quelle complessivamente censite in Europa. Ogni anno sono qualche migliaio le frane che si attivano o riattivano sul territorio nazionale e qualche centinaio gli eventi franosi principali, ovvero quelli che causano gli impatti più significativi sulle persone, sui centri abitati e sulle infrastrutture principali di comunicazione. Circa il 28% dei fenomeni sono fenomeni rapidi, quindi ad esempio crolli o colate rapide di fango e detrito, che sono quelle più pericolose per l'incolumità della vita umana. Tutte le informazioni sulle frane sono archiviate all'interno dell'Inventario dei Fenomeni Franos in Italia, che è realizzato dall'ISPRA e dalle Regioni e Provincie Autonome. La copertura temporale dell'inventario va dal 1116 al 2021 e il 1116 è la data della frana che ha la data di attivazione più antica. L'8,7% del territorio nazionale è classificato a pericolosità da frana elevata o molto elevata nei piani di assetto idrogeologico, che sono realizzati dalle autorità di bacino distrettuali e identificano le aree a maggiore pericolosità e su di esse applicano dei vincoli e delle regolamentazioni d'uso del territorio. 1.300.000 sono gli abitanti stimati a rischio frane, o per la propria incolumità o per la perdita dell'abitazione. Archiviare le informazioni sulle frane è un'attività strategica, considerato che gran parte delle frane si riattivano nel tempo, anche dopo anni o secoli di quiescenza. Oltre all'approfondita conoscenza del territorio, la mitigazione del rischio si basa sulla corretta pianificazione territoriale, sui interventi strutturali di consolidamento dei versanti e di protezione dei centri abitati e di infrastrutture di comunicazione, sul monitoraggio strumentale e sui sistemi di allertamento per la salvaguardia della popolazione e infine sulla comunicazione e diffusione delle informazioni ai cittadini. A questo proposito l'ISPRA ha realizzato una piattaforma che si chiama Idrogeo e su cui i cittadini possono consultare le informazioni sul rischio idrogeologico che interessa il proprio territorio. Questo per far aumentare la propria consapevolezza e per coinvolgere maggiormente le comunità. Buongiorno, sono Riccardo De Lauretis. La nostra area si occupa di stimare le emissioni in atmosfera, sia dei cassero che dei rinquinanti atmosferici. Le emissioni in atmosfera sono principali responsabili di varie tematiche ambientali, come i cambiamenti climatici, l'inquinamento atmosferico, la qualità dell'aria. L'Italia è in tutto ciò al momento rispettato agli obiettivi che sono previsti di riduzione delle emissioni, ma ai fini di rispettare quelli previsti per il 2030 e il 2050 ci sono ancora molte iniziative da prendere. Nel 2050 l'idea, per quanto riguarda i cassero, è quella di avere emissioni nette pari a zero, quindi di decarbonizzare totalmente il sistema. Questo vuol dire cambiare anche i nostri stili di vita e le nostre abitudini, visto che tra i settori principali emissivi ci sono anche quello dei trasporti e quello del riscaldamento e del condizionamento degli ambienti domestici. Le misure messe in atto attualmente, alcune misure sono finanziate nell'ambito del PNRR, ma ancora molto andrà fatto, perché i nostri scenari, ci dicono che il 2030, con le misure messe in atto e finanziate, non rispetteremo gli obiettivi previsti dai nuovi regolamenti, dal Green Deal. Buongiorno, sono Cecilia Silvestri del Centro Nazionale Coste. Sono una biologa marina e una ricercatrice e mi occupo di problemi di rifiuti marini e di plastica in mare. Ispra su questo fa tantissimo. A livello istituzionale noi eseguiamo i programmi di monitoraggio insieme al sistema agenziale coordinato di amministrare la transizione ecologica e ovviamente partecipiamo anche ai progetti di ricerca. Che cosa abbiamo raccolto in questi anni con i programmi di monitoraggio? Diversi dati. Abbiamo visto che la situazione è critica. Vi faccio un esempio. A livello di Commissione europea è stato stabilito che una spiaggia è pulita quando non si incontrano più di 20 oggetti su 100 metri lineari. Nei nostri programmi di monitoraggio abbiamo visto che ne incontriamo anche più di 400, mediamente in tutte le spiagge monitorate. Questo lo sappiamo e lo comunichiamo anche alla Commissione europea perché noi stiamo all'interno dei tavoli della Commissione europea. Il problema dei rifiuti è in tutti i comparti. Abbiamo per esempio un problema dei rifiuti che sfociano dai fiumi. Noi abbiamo visto dei programmi di monitoraggio che più di mille oggetti si incontrano su chilometro quadrato alla foce dei fiumi. La maggior parte di questi rifiuti sono plastica. La plastica ovviamente poi arriva al fondo. Quindi attraverso i programmi di monitoraggio e attraverso dei progetti di ricerca abbiamo stimato che per esempio a Chioggia, la marineria Toggia, ogni anno raccoglie 8 tonnellate di rifiuti. 100 kg di pesce corrispondono a 9 kg di plastica. Abbiamo il problema delle reti fantasma, delle reti abbandonate dai pescatori che ovviamente creano problema d'impatto agli organismi marini, quali tartarughe marine e mammiferi marini e poi impattano quelle che noi definiamo le foreste sottomarine. Più del 40% delle gorgonie e dei corali viene impattate dalle reti. Che cosa abbiamo poi? Che purtroppo la plastica viene ingerita dagli organismi marini e questo crea un grande impatto da alcuni progetti di ricerca che ha effettuato ha visto che più del 63% delle tartarughe ingerisce plastica e poi abbiamo che questa plastica purtroppo si frammenta, si frammenta, diventa molto piccola, le microparticelle che noi chiamiamo microplastiche sono al di sotto dei 5 mm e creano un problema anche se invisibili perché entrano nella catena trofica. Sempre dai nostri programmi di monitoraggio e dagli studi che abbiamo effettuato un pesce su due quindi più del 50% dei pesci ingerisce plastica, abbiamo visto che per esempio anche gli squali di profondità intorno ai 600 metri nei nostri esemplari campionati aveva più del 70% di microplastica ingerita e da alcuni modelli matematici che abbiamo effettuato abbiamo visto che se non ci fermiamo nell'immissione di plastica in mare dovete sapere che più del 26 milioni di tonnellate vengono prodotte di plastica e il 4% di questa entra in mare e meno del 30% viene riutilizzata. Il problema quindi è che questa plastica che entra in mare si frammenta e abbiamo visto che nel 2050 probabilmente la concentrazione di microplastiche sarà quadruplicata. Allora che cosa si fa? A livello nazionale italiano grazie anche al Ministro della Transizione Ecologica che sta facendo una serie di recepimenti molto importanti delle direttive, stiamo cercando di affrontare il problema recuperando e cercando di ridurre l'immissione di plastica e di rifiuti in mare. Ad ogni modo ognuno di noi deve rispettare la regola delle tre R, riduci, riusa e riutilizza. Sono Stefania Nisio, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, ISPRA. Mi occupo di simcall e di cavità sotterranee e quindi del problema delle voragini. È un problema molto sentito soprattutto nelle città italiane. E com'è la situazione ambientale relativamente a questo problema? La situazione è in netto peggioramento in quanto registriamo un aumento di casi di voragini nelle città italiane. Soprattutto l'aumento si è verificato negli ultimi 20 anni. Le città interessate sono soprattutto città del centro Italia, del meridione, le grandi aree metropolitane. A Roma immaginiamo di registrare 100 casi l'anno e quindi un caso, una voragine ogni tre giorni. Voragini di dimensioni metriche, quindi superiore al metro. Oltre a Roma città interessate sono Napoli, Palermo, le città del meridione come Cagliari oppure Messina, eccetera. Cosa può fare il cittadino? Quindi cosa si può fare individualmente o collettivamente per cercare di diminuire la pressione ambientale relativamente a questo problema? Si può sicuramente intervenire sulla manutenzione stradale, in quanto la pulizia di tombini, di feritoie e di tutto ciò che porta l'acqua in sotterraneo facilita l'innescarsi di voragini. Quindi tenere puliti i tombini delle nostre città sicuramente è una questione importante, soprattutto laddove ci sono cavità sotterranee. A Roma e a Napoli le città sono state costruite al di sopra di un mondo sotterraneo e quindi mantenere attenzione queste aree particolarmente fragili e sensibili è importante per migliorare questo tipo di problema. Sono Federico Araneo, sono un geologo e mi occupo di siti contaminati. I siti contaminati sono aree in cui un evento di contaminazione dovuto all'attività antropica ha comportato una contaminazione tale per la quale la salute umana e l'ambiente hanno un rischio che non è accettabile. In Italia i procedimenti di bonifica dei siti contaminati sono gestiti sia dal Ministero della Transizione Ecologica che dalle regioni. I siti regionali sono 33.000 e di questi solo 15.000 sono tuttora attivi, mentre 18.000 sono stati conclusi, bonificati oppure hanno concluso il procedimento. Infatti bisogna pensare che non sempre un procedimento di bonifica comporta la presenza di un sito contaminato. È come se una persona avesse un mal di pancia, non per questo necessita di un intervento chirurgico. Gli interventi di bonifica sono lunghi da fare perché soprattutto se si utilizzano tecniche a basso impatto ambientale si deve prediligere la rimozione meccanica o biologica o chimica in situ, quindi all'interno degli stessi suoli, sottosuoli o acque sotterranee. Quello che si potrebbe fare molto di più sarebbe quello di aumentare e velocizzare l'azione conoscitiva da parte della pubblica amministrazione e soprattutto dei soggetti responsabili della contaminazione affinché poi le aree che sono veramente, che necessitano veramente dell'azione di bonifica poi possano cominciare subito l'intervento. Il tema dei siti contaminati è un tema comunque diffuso anche a livello europeo, non è mai uscita una direttiva europea e questo complica le cose a livello appunto del nostro continente. Quello che è successo ultimamente attraverso il PNR sono stati finanziati alcuni interventi su suoli e sottosuoli per i quali non esiste o non è stato possibile reperire il responsabile della contaminazione. In questo caso l'amministrazione interviene e si prende carico a nome della collettività di eseguire una bonifica del territorio. Esiste un database dei siti contaminati che si chiama Mosaico e che è in capo al Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente grazie al quale vengono scensiti tutti i siti contaminati e vengono sistematizzati. Sono Chiara D'Ambrogi, geologa, mi occupo di cartografia geologica e modellazione geologica tridimensionale. Quando si parla di ambiente la cartografia geologica è un elemento imprescindibile perché la cartografia geologica ci dà la possibilità di raccogliere e rappresentare le informazioni, tantissime informazioni che le rocce custodiscono, in particolare le informazioni che sono legate ai processi geologici del passato, all'evoluzione della vita, ai cambiamenti climatici che sono avvenuti in milioni di anni all'interno del nostro territorio nazionale. La cartografia geologica inoltre fornisce informazioni importantissime anche sull'evoluzione che i processi naturali e eventualmente l'interazione con l'attività antropica questi processi possono avere, quindi uno strumento di conoscenza fondamentale. Inoltre la cartografia geologica consente di avere informazioni circa le risorse naturali del nostro territorio, le risorse idriche, le risorse minerarie in primo luogo e le risorse energetiche. La cartografia geologica viene realizzata dall'Istituto e stiamo attualmente a una copertura pari al 45% del territorio nazionale. Stiamo realizzando nuovi fogli della carta geologica d'Italia alla scala 1 a 50.000 e nei prossimi quattro anni raggiungeremo una copertura del 55%. Realizzare cartografia geologica sostanzialmente dà ai cittadini la possibilità di conoscere il territorio sotto i loro piedi, quindi avere informazioni su quello che avviene nelle aree dove essi vivono e sarebbe estremamente importante che ci fosse un maggiore supporto al completamento della copertura geologica nazionale attraverso una maggiore quantità di finanziamenti. Inoltre quello che stiamo facendo in questa fase ci consente anche di dare possibilità di impiego a giovani geologi che realizzano cartografia geologica in territori fino ad ora non coperti. Stefano Mariani, matematico, in Ispra mi occupo di monitoraggio del ciclo idrologico e dei suoi estremi e negli ultimi anni ci siamo interessati particolarmente alla valutazione della disponibilità della risorsa idrica naturale attraverso un modello di bilancio idrologico denominato Big Bang. Attraverso questo modello siamo riusciti a valutare dal 51 ai giorni attuali qual è la disponibilità della risorsa idrica naturale. Se andiamo a fare un confronto tra quello che era disponibile all'inizio degli anni 50 e andiamo a confrontarlo con quella che è stata la disponibilità idrica nel proseguo degli anni, notiamo un trend decrescente di disponibilità valutato sul lungo periodo intorno al 14% in meno. Se andiamo a fare questa valutazione sull'ultimo trentennio questa riduzione arriva al 19%. D'altra parte però stime europee ci mostrano come la domanda di risorsa idrica stia comunque aumentando. E' previsto ad esempio un aumento del 16% da qui al 2030 se non vengono cambiate le politiche, le gestioni dalla scala personale del cittadino alla scala più di ampio spretto come può essere quella dell'utilizzo in campo agricolo oppure industriale, se non andiamo a cambiare questi usi della risorsa ci potremmo trovare una difficoltà a situazioni di stress idrico. Valutazioni che abbiamo fatto sull'impatto dei cambiamenti climatici sulla disponibilità della risorsa idrica mostrano ad esempio una riduzione del 10% a breve termine qualora si applicassero comunque delle politiche di riduzione forte delle emissioni di gas e serra. Se queste politiche non si andassero ad applicare le proiezioni al 2100 portano a una riduzione del 40% con punte del 90% sui territori del sud dell'Italia. Altro elemento centrale quindi non solo il monitoraggio di quella che è la disponibilità della risorsa e su questo l'Italia sta agendo in maniera compiuta anche attraverso un piano operativo ambiente che è un complesso di interventi su questa tematica ma è importante avere informazioni certe, puntuali e dettagliate sia dal punto di vista spaziale che temporale su quelli che sono i prelievi e gli usi della risorsa. Sono Martina Bustettini, ingegnere idratico e in Ispra mi occupo di idrologia, rischio idraulico e stato dei sistemi fluviali soprattutto in risposta alle pressioni entropiche che sono di due generi sostanzialmente chimiche di origine puntuale o diffusa o idromorfologiche cioè i prelievi ingenti e le opere idrauliche di sistemazione tra virgolette dei nostri corso d'acqua soprattutto a partire dal seguito della seconda guerra mondiale quindi tutta l'antropizzazione. In risposta a queste pressioni i corpi idrici in Italia e soprattutto quelli fluviali sono in buono stato chimico per più del 75% dei casi quindi è evidente che quelle pressioni le abbiamo già indirizzate mentre in risposta alle pressioni idromorfologiche sono in buono stato ecologico solo il 43% dei corpi idrici fluviali. Questo vuol dire che su questo settore quindi delle sistemazioni fluviali, dei prelievi di acqua e sedimenti bisogna ancora lavorare. Queste pressioni hanno causato infatti un deterioramento degli ecosistemi ma anche una disconnessione dei fiumi dalle piane inondabili, delle falde, dalle acque superficiali e un'instabilità nei corridoi fluviali che il più delle volte ha causato anche instabilità nelle infrastrutture che ci poggiano, ricordiamo, crolli spondali o anche crolli di ponti nel passato. Cosa fare per porre rimedio a queste pressioni di cui non ci possiamo ovviamente disfare pena i nostri centri abitati che verrebbero soggettati a rischio però quello che possiamo fare è adottare delle misure o è possibile basate su processi naturali quindi o è possibile riconnettere i corsi d'acqua a Montevalle anche con le piane inondabili e quindi riconferirli degli spazi di naturale esondazione ovviamente una gestione sostenibile delle risorse quindi l'uso efficiente delle risorse stesse e tutto questo però che cosa implica? Implica un'azione di monitoraggio più intensiva quindi conoscenza delle pressioni dello stato dei corpi idrici, formazione del personale preposto, ovviamente più ricerca e più comunicazione. Fabio Ferranti, lavoro in Ispra nel servizio preposto all'analisi dei cicli produttivi e valutazione dei rischi industriali connesso con le attività produttive il nostro servizio fa anche attività di controllo e monitoraggio presso i siti industriali e rileva quelle che sono le informazioni inerenti e gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. La normativa europea ha previsto una serie di misure e norme che sono state recepite per il contenimento e per la gestione degli impianti industriali è innegabile che gli impianti industriali contribuiscano all'inquinamento sia nelle varie matrici quindi aria, in particolo modo effetto serra, ma anche con potenziali impatti in merito alle risorse naturali quali acqua, suolo e con la produzione di rifiuti. Le strategie sono quelle di limitare l'utilizzo delle risorse, recupero, riutilizzo e recupero anche energetico. Ispra contribuisce durante la fase autorizzativa al Ministero quindi attività di supporto al Ministero, questa è la prima fase di prevenzione che poi viene integrata con i controlli, con i monitoraggi in collaborazione con le agenzie. È innegabile che l'autorizzazione integrata ambientale abbia prodotto dei benefici a livello di abbattimento degli inquinanti che si possono mediamente valutare un 20% nelle varie filiere centrali termoelettriche, impianti chimici, raffinerie. L'auspicio è quello di continuare e di potenziare l'attività di controllo e di monitoraggio al fine di essere sensibili a quelle che sono le istanze dei portatori di interesse con la finalità ultima di promuovere l'accettabilità sociale nell'attuazione delle migliori tecniche disponibili. Francesca Giordano, mi occupo di valutazioni della qualità dell'ambiente nelle nostre città. Le nostre città si trovano oggi ad affrontare sfide ambientali inedite dai cambiamenti climatici alla transizione energetica dall'uso sostenibile delle risorse fino alla crisi uomo ambiente. Nei capoluoghi di regioni italiani negli ultimi anni si evidenziano sostanziali progressi su alcuni fronti, in particolare quello dei trasporti dove si registra una diminuzione del parco auto più inquinante e una crescente attenzione alla mobilità sostenibile. Crescono infatti piste ciclabili e aree pedonali. Resta invece ancora scarsa la disponibilità di aree verdi così benefiche per la qualità dell'ambiente ma anche per lo stato psicofisico delle persone. Sulla fronte dell'uso sostenibile delle risorse si parla oggi sempre più di città circolari ovvero città che cercano di passare dal modello lineare dell'usa e getta a quello circolare basato sulla riduzione dei consumi, sul riuso, il riciclo e il recupero delle risorse. Su questo fronte le nostre città stanno mostrando segnali di miglioramento per quanto riguarda la raccolta differenziata ma va evidenziato come sia ancora in aumento la produzione pro capite di rifiuti urbani. In crescita anche i servizi di condivisione delle auto il cosiddetto car sharing e anche la quota delle auto elettriche ibride quindi quelle meno inquinanti ma resta ancora ridotto l'uso dei sistemi di trasporto pubblico. C'è poi la sfida dei cambiamenti climatici sia sul fronte della riduzione delle emissioni di gas serra che sul fronte della resilienza ovvero della capacità delle città di far fronte alle minacce dovute ai cambiamenti climatici quali ondate di calore più intense e frequenti, episodi di siccità, precipitazioni più violente concentrate in un tempo più breve ma anche per le città costiere e l'inanzamento del livello del mare. Possiamo fare tutti qualcosa per migliorare i nostri stili di vita renderli più sostenibili limitando ad esempio l'uso dell'automobile ai soli casi di estrema necessità privilegiando una bella passeggiata e anche l'uso della bicicletta laddove possibile utilizzando di più i mezzi di trasporto pubblico. Sul fronte dell'energia ci sono oggi tanti incentivi per migliorare l'efficienza energetica nei nostri edifici ad esempio con cappotti termici impianti fotovoltaici e la sostituzione di infissi. Dobbiamo anche ridurre quello che è il consumo energetico ad esempio limitare l'uso dei condizionatori nei periodi estivi laddove possibile e anche non lasciare gli elettrodomestici in standby spegnere le luci quando non sono necessarie ridurre gli sprechi di cibo utilizzando gli scarti per il compost utilizzare ad esempio lavastoviglie e lavatrici a pieno carico ridurre quindi gli sprechi di acqua optare per una bella doccia invece che un bagno nella vasca. Ci sono anche opzioni nel campo dell'alimentazione possiamo scegliere prodotti a chilometro zero prodotti di stagione e anche alimenti contenuti in imballaggi riciclabili. Sono Fiorenzo Fumanti geologo del Dipartimento del Servizio Geologico d'Italia mi occupo di risorse minerarie le risorse minerarie sono alla base dello sviluppo di tutta la nostra civiltà senza la scoperta dell'uso dei metalli saremo ancora all'età della pietra ma negli ultimi anni dalla rivoluzione industriale in poi il consumo di risorse minerarie è incrementato in maniera esponenziale dal 1970 nel 1970 si estraevano a livello globale circa 2 miliardi di tonnellate di metalli nel 2020 se ne estraggono circa 10 miliardi di tonnellate e la tendenza è sempre quella l'aumento perché in un nuovo modello di sviluppo basato sulla decarbonizzazione energetica veicolare delle attività produttive del mondo occidentale le fonti fossili saranno sostituite con le risorse minerarie queste risorse minerarie che hanno quindi è necessario per l'Occidente e per l'Europa in particolare riuscire a garantire un approvvigionamento sicuro delle risorse minerarie all'industria europea e italiana in questo momento le risorse minerarie sono in gran parte prodotte da paesi extraeuropei in particolare asiatici e sud-est asiatici e possono essere messe in serie a crisi sia per la concentrazione geopolitica della risorsa per le politiche economiche dei paesi produttori per fattori imponterabili come la pandemia e la guerra la guerra del Donbass e dell'Ucraina ci ha posto in evidenza in modo clamoroso quanto un evento di questo tipo possa messa in crisi l'industria europea e italiana in particolare l'industria ceramica è in forte crisi a causa della mancanza di argille e cauli nitiche del Donbass ma sono in crisi le acciaierie i produttori di marmite catalitiche per la crisi del palladio, del neon, del nickel e del rame in Italia la situazione attualmente non abbiamo risorse minerarie cioè non abbiamo miniere in attività se non un paio di florite una a Bracciano e un'altra in Sardegna ma tutta la comunità scientifica in materia è concorde nel ritenere che in Italia esistono ancora quantitativi significativi di risorse minerarie che potrebbero essere sfruttate lo sfruttamento dei risorse minerarie ha comunque un impatto ambientale e sociale che può essere devastante soprattutto quando non è condotto con metodi di estrazioni sostenibili attualmente questo impatto sociale e ambientale ed umano lo stanno pagando i minatori dell'America Latina dell'Africa e dell'Asia in Europa si sta sviluppando i vari paesi europei la comunità europea in particolare si sta sviluppando invece una serie di best practices per riuscire ad arrivare in una situazione sostenibile e soprattutto l'esempio dei paesi scandinavi in questo senso che sono i maggiori produttori europei ci conforta quindi è necessario soprattutto in Italia ripartire con la ricerca ripartire con la ricerca mineraria anche per formare una nuova classe di ricercatori che siano in grado di fare anche quello che ha appena fatto l'Inghilterra cioè comprare miniere in Africa applicare criteri di estrazione sostenibile anche in Africa e diminuire in questo modo la dipendenza dai paesi produttori diversificare le fonti di approvvigionamento non vale solo per le fonti energetiche ma vale e soprattutto valerà sempre di più anche per le fonti minerarie sono Alice Rotini, sono un'ecologa mi occupo della valutazione del stress ambientale dei suoi effetti negli ecosistemi marini e di recente mi sono occupata della tutela dei depositi di Posidonia Oceanica nelle spiagge del Mediterraneo siamo un paese con oltre 8.000 km di costa e la maggior parte delle attività umane dipende dalle risorse naturali costiere e marittime e si svolge su queste aree ciò determina delle forti pressioni ambientali in questi ecosistemi costieri che sono ricchi di habitat e di specie importanti ma anche fragili tra queste anche la Posidonia Oceanica è una pianta marina che vive solo nel mar Mediterraneo e che forma delle vaste praterie ad un'enorme valenza ecologica ma questa pianta in realtà è incredibilmente preziosa e continua a svolgere importanti funzioni anche da morta infatti le foglie che cadono naturalmente che raggiungono le spiagge per effetto delle mareggiate formano dei cumuli anche imponenti che sono chiamate banquette e nelle spiagge a forte vocazione turistica siamo ormai alle porte della stagione balneare sono considerate un rifiuto un fastidio e purtroppo vengono rimosse in realtà la presenza di questa banquette è indice di elevata qualità ambientale oltre a svolgere importanti funzioni e dovrebbe rimanere esattamente dove sta proprio per questo l'ISPRA ha sviluppato il modello della spiaggia ecologica si tratta di un nuovo concetto di gestione degli arenili che è stato sviluppato nei siti interessati dalla presenza dei depositi di Posidonia e che prevede appunto che venga mantenuta e che si informino i cittadini del motivo della sua presenza della sua importanza e del fatto che assolutamente non rappresenta un RISP per la salute umana e questo modello è stato con successo già applicato in un paio di spiagge del Lazio e anche in Sicilia a Favignana è un modello che promuove un turismo consapevole applica approcci di economia circolare e realizza anche un diretto coinvolgimento dei cittadini attraverso nazioni iniziative di citizen science e anche laboratori di educazione ambientale potete seguirci sulla pagina sociale spiaggia ecologica per scoprire dove sarà realizzata la prossima spiaggia ecologica e anche venire a conoscere di persona questa nuova realtà sono Michele Munafo lavoro all'ISPRA dove mi occupo di monitoraggio dell'ambiente di dati ambientali di valutare le trasformazioni dell'ambiente che ci circonda e del territorio il nostro è un territorio che cambia continuamente sottoposto a diverse pressioni pensiamo ad esempio a quello che è l'impatto delle nuove costruzioni sul territorio un vero e proprio consumo di suolo che avviene con la realizzazione di nuovi edifici infrastrutture e altre coperture artificiali spesso in area agricole in area naturali con impatto importante sulla biodiversità sulle funzioni del suolo sui servizi ecosistemici pensiamo alla produzione agricola la capacità del suolo di assorbire carbonio di trattenere di migliorare la qualità dell'aria o di trattenere le acque un processo questo delle nuove costruzioni del consumo di suolo che investe quasi 60 chilometri quadrati ogni anno praticamente come se ogni secondo dell'ultimo anno noi avessimo consumato due metri quadrati di suolo con la realizzazione di nuovi cantieri edifici e quant'altro un processo di fatto praticamente inarrestabile che provoca una perdita irreversibile di una risorsa ambientale fondamentale tra l'altro in un momento in cui il nostro paese ha una popolazione che non sta crescendo anzi decresce quindi non c'è più neanche una reale domanda di nuovi spazi dovremo riutilizzare meglio quello che già abbiamo le aree già costruite e quindi evitare di trasformare di perdere altre risorse naturali altri suolo fertile tutto questo lavoro che viene assicurato ogni anno dal sistema nazionale per la protezione dell'ambiente porta alla realizzazione di mappe di dati, di indicatori che sono liberamente accessibili sul nostro sistema, sui nostri siti vengono portati all'interno di rapporti che permettono a tutti in maniera assolutamente libera di poter accedere alle informazioni ai dati e a costruire quel patrimonio informativo utile per conoscere il territorio, come sta cambiando e prendere auspicabilmente le migliori decisioni per tutelare quanto più possibile queste risorse ambientali così importanti Buongiorno, sono Stefano Laporta sono il presidente dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale una comunità di più di mille tecnologi e ricercatori che ogni giorno operano a servizio del Paese e a difesa dell'ambiente su tutte le matrici e i fattori di pressione che purtroppo gravano sul nostro ambiente nel nostro Paese una comunità che si mette quotidianamente al servizio di tutti i cittadini per la tutela di una risorsa così importante per lo sviluppo del Paese anche nell'ottica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e vorrei sottolineare come le attività di monitoraggio, difesa, tutela dell'ambiente coniugate alla necessaria attività di ricerca sono fondamentali ripeto, non solo per la tutela di un bene così prezioso ma anche per sviluppare la ripresa e la ripartenza del Paese che sia però basata su fondamenta solide ovvero su una tutela dell'ambiente un bene che non possiamo più permetterci di disperdere, di non tutelare come invece forse abbiamo fatto negli anni precedenti per la tutela per la tutela per la tutela per la tutela